Salve ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di... Eh, sì, in questo video di Happy Wheels. L'altra volta mi si era... non so che cosa gli era successo al computer. Però, comunque, rigiochiamo a questo livello. Non ho ben capito cosa devo fare. Allora, questo devo andarmi a darti la feria. No, ho un peli. Sono scato in... Sì, no! Devo avere la manetta, il diamante. Mi sta stufrando la gamba. Mi resta il cielo non so quanti non è... Oh, questo è il ritmo, eh no? Per non annoiare... Quando... Mi resta il cielo? un livello senza senso grazie wow quante persone devo scioglierli tutti sono atterrato sul morbido fuori dai coglioni tu e ti mando a fuoco il bene sto facendo le giri sto ruotando su me stesso e adesso vado a vivere senza senso questo 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 a scendere wow che elicattolo eh ma GTA come faccio a sparare? guarda c'è un avrilatore si ma come faccio a sparare? si con i nemici quando arriva i nemici penso te lo prendo si che live? è un livello senza senza questo è il vero gi- e questo è il gi- e questo è il gi- la mappa fa davvero schifo è come quella dei primi video- porca puttana videogiochi di GTA come San Andreas s comunque ora andiamo via eh eh GTA 5 viste su Minecraft meglio GTA 5 e lo distruggeremo esatto esatto hai visto? era una risposta troppo difficile avete visto? si eh 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 non sapevo chi scegliere perché avresti scelto Minecraft cioè quel cazzo fa schifo almeno a me mi fa schifo ragazzi ah fighissimo bene altri ditele al gabattore che è fighissimo te sei l'unico uomo che abbia manca anche io si sono il secondo io no perchè sei pazzo perchè Minecraft è della... fa schifo si ho capito ma di che stanno... secondo Minecraft chi è? Steve clicca Steve Steve ah Steve ho capito Steve Steve si chiama quello di Minecraft non me ne frega un calcio Steve si sbagli le domande bene no no si indominato si guarda mi sono rotto anche delle gambe dimmi che schifo è questa cos'è? non ci capisco in inglese va bene mettiamo esatto che culo eh questo? eh diamanti diamante prova prova diamante speriamo che sia giusto speriamo che sia giusto che livello di merda nooo sono fortissimo livello di merda no è fighissimo sono solo delle domande su questa merda di gioco ma è fighissimo non è vero fa schifo no è fighissimo è il gioco più mitico del mondo ti piace più di gta? no allora perché hai detto il più mitico? fuori dai più figo di one piece? no 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 perché ora abbiamo vediamo 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 vaseline cazzo che cosa animali Così pochi? Porca puttata Ma che schifo Non ho detto animali in quel senso Pedofili E poi vedete questo E' un cazzo E' un cazzo Rifatemelo vedere Per favore Ma che schifo E poi come fa a distruggerlo Non capisco Non ho detto animali in quel senso Non è un doppio senso Ho detto animali e animali Si e mi dici come Che Tenete fuori dai coglioni Questo si che è figo Nooo Stop Riproviamoci Solo un uomo ce la può fare Babbo Il peggiore Si Ok c'erano 9 minuti E' 10 secondi Ora Di registro Proviamole Dobbiamo concludere fra un pochino Fra un po' Forse volando Possiamo fare Continuate elfi di merda Non vi pago 36 secondi Ehm L'ultima volta e poi ci salutiamo ragazzi L'ultimo 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 Visto che ce l'ha fatta Ce la puoi rifare Messo la sfuga Che trattore Resiste alle bombe Oddio Oddio Muori park Come si è bloccato il cazzo di trattore Dai sveglia No no Allora ciao ragazzi